La mia azienda è a Santa Bianca di Bondeno. Allora Marco, inquadriamola questa azienda. Quanti ettari hai e che cosa coltivi qui? La mia azienda è 35 ettari, così composta tra seminativo e frutteto. Il frutteto ha 6 ettari di pere e 1 ettaro di mele, 5 ettari di pomodori, 6 ettari di mais e il resto grano tenero e grano duro. Come è andata quest'anno con le produzioni, soprattutto delle frutticole, almeno quelle che hai raccolto sino ad oggi? Per il momento io ho raccolto Santa Maria e sto raccogliendo la viglia. Le produzioni sono discrete, però manca un calibro sulla pezzatura delle pere, anche delle mele. Come produzione non lo so, come l'anno scorso c'è un calo minimo. Fortunatamente la produzione c'è, però come ti dico la pezzatura è un po' più bassa, c'è un calibro in meno. Questa mancata pezzatura, o minore pezzatura, è legata alla siccità? Secondo me è dovuta anche alla siccità, il terremoto che probabilmente ha sconsolato un po' le piante. Nonostante abbia irrigato, la pezzatura è rimasta piccola, anche troppo caldo ha influito sulla pezzatura delle piante. Qual è la destinazione commerciale del tuo prodotto? Io conferisco una cooperativa, sia il prodotto frutticolo che anche i pomodori. Per i cereali, anche quello quest'anno ho conferito sempre una cooperativa e poi ho venduto subito sotto terebbia. Non ho fatto la commercializzazione, ho venduto subito col prezzo che mi hanno offerto. Ho venduto a un prezzo pulito di 29 euro, non è un prezzo eccellente, però purtroppo ho fatto quella scelta lì e dopo il mercato mi dirà se ho ragione o no. Quindi sono ognuno a fare le sue scelte e come produzione diciamo che sono stato sui 50 quintali con il grano duro e più o meno anche con il grano tenero. Siamo alla stessa quantità, non eccessiva, cioè sufficiente, non sono delle grosse quantità. Non potendo usare, sforzare diciamo più di tanto con urea, cioè azoto, io uso prodotti organici, quindi più di tanto la pianta arriva con le produzioni lì. Fino adesso i pomodori sono ancora raccogliati, comunque la produzione sembra che ci sia, però purtroppo con il caldo che c'è stato, nonostante abbia irrigato, ho avuto un attacco di ragno rosso che mi ha incendiato praticamente le piante. Questo è un problema che penso che sia un po' di tutti comunque, quasi tutti. Tornando alle frutticole, tu conferisci a una cooperativa, quindi per quest'anno ancora non sai i prezzi, però per cercare di capire com'è l'andamento commerciale negli ultimi anni del biologico. L'anno scorso che annata è stata da un punto di vista proprio commerciale? Da un punto di vista commerciale diciamo che è andata rispetto al convenzionale molto bene, perché ha avuto dei prezzi in certe varietà, tipo l'abate, quasi il doppio di quelli del convenzionale. Nonostante sia stato molto basso rispetto all'anno 2010 che ha avuto delle punte molto alte. Facciamo un po', diamo un po' di numeri così. Nel 2010 e nel 2011 quanto avevi preso? Diciamo nel 2010 avevo sferato 1,30 euro al chilo, mentre nel 2011 sono passato a 0,74 per l'abate, per la coltivare abate. E l'anno scorso le produzioni c'erano state? Era stato un anno diciamo buono? Sì, sì, nonostante io la produzione è più o meno sempre uguale tutti gli anni, sia nel 2010 che nel 2011, quindi nel 2012 più o meno aumenterò anche la produzione, perché c'è molta produzione diciamo. E quanti quintali fai per ettaro? Per esempio l'abate? L'abate sono su 250 quintali, dai 200 ai 250, perché è un impianto abbastanza giovane, quindi non faccio grosse produzioni, però diciamo che facendo 250 quintali tutti gli anni sarebbe da farci la firma. Non possiamo ancora dire i prezzi di quest'anno, però comunque tu che sentore hai? C'è mercato per il biologico? Cioè è comunque un settore che continua a crescere, a funzionare, a dare soddisfazione ai produttori? Secondo me sì, c'è sempre un mercato abbastanza ristretto, quindi la domanda c'è, perlomeno fino adesso, quindi il problema di collocazione del prodotto non ci sia mai stato, nel senso che finiscono sempre la roba prima del tempo, quindi se ne fosse di più probabilmente andrebbe meglio, però purtroppo non siamo in tanti. Ascolta, scendiamo un po' più nel tecnico e parliamo di difesa dalle malattie. Quest'anno la pressione delle malattie, visto l'andamento stagionale, non è stata elevata, insomma ci risulta. Tu hai avuto dei problemi, se sì, che problemi hai avuto? Ma diciamo che l'andamento stagionale ci ha favorito, nel senso che non ha sviluppato i funghi, perché essendo le temperature troppo alte, poi non è mai piovuto, quindi la difesa è stata abbastanza facile, insomma, abbastanza leggera. Ecco, dal punto di vista degli insetti diciamo che il problema è sempre la carpocapsia, perché purtroppo questo qua è proprio il periodo più difficile, perché c'è la terza generazione, quindi quella più importante è che va a mangiare proprio nel momento della maturazione, quindi adesso vediamo come raccolta, come sono andato bene o male, insomma, diciamo, però adesso sono a posto, diciamo, siamo positivi, ecco, nelle varietà dove ho già raccolto il danno, diciamo, è minimo, quindi rispetto, il problema sarà l'abate, che l'abate è quella più appetibile dalla carpocapsia, insomma, diciamo. Tu come ti difendi dalla carpocapsia? Diciamo che io inizio a fine aprile mettendo giù la confusione e poi dopo intervengo con i trattamenti di spinosad e del virus ganulosi, che sono i prodotti che sono ammessi per la difesa. Nonostante però tutto questo, alla fine un po' di danno ce l'hai, che percentuale in media? Diciamo che purtroppo, dicendo, l'abate è sempre quella più appetibile e quindi viaggio sempre al percentuale del 10-15%, andando piano, in certi apprezzamenti arrivo anche al 20-25%. Costa di più per un biologico difendersi da queste malattie rispetto a chi fa produzione integrata o a un convenzionale? Diciamo che, secondo me, c'è un 10-15% in più di spesa a livello, per la difesa, insomma, convenzionale rispetto a quella convenzionale. E nonostante tutto, cioè, che spendire di più, delle volte non hai riscontro, diciamo, per gli insetti, tipo carpocapsia, non per le malattie fungine, diciamo, ticcolatura o mancolatura. E nonostante tutto, hai capito, abbiamo una varietà di prodotti che ci aiutano anche, però tante volte contano poco, ecco. Ma questa spesa maggiore dipende dal fatto che bisogna intervenire di più? Diciamo sì, qualche intervento in più c'è, però sono anche i prodotti stessi, tipo i prodotti a base di spinosa, che costano una cifra al litro, quindi aumentare il prezzo per ettaro di costo, insomma.